ciao a tutti ragazzi benvenuti oggi su questo video allora oggi siamo qui su clash royale ma non per fare solo battaglie allora siamo qui per fare per farvi vedere una nuova cosa ho trovato un torneo e desidero condividerlo con voi andiamo su clash royale vi lascerò il link in descrizione su come trovare questo torneo e vi rilascerò il link in descrizione della password allora questo è il torneo allora ragazzi vi consiglio di unirvi più prima possibile perché inizia tra dieci minuti quindi io pubblico subito il video e ci vediamo al prossimo video volevo dire l'ultima cosa prima che stacchi il video questo contenuto del torneo è di 60 carte io sono quarantunesimo bene quindi sono tutti scherzoni tutti dell'arena 5 alcuni dell'arena 8 e 9 saranno due o tre comunque sia ora lascio il video metterò il link in descrizione della password voi dovete cercare così scrivete p w e ed è il primo la password è goblin così tutto minuscolo allora se volete unitevi al mio clan a non al mio clan è il clan di uno che si chiama gesù bambino è un clan dove si dona molto si richiede tante carte e si ricevono molte carte sogniamo abbastanza forti e siamo dovremmo essere nella top italia top come cazzo top locali ecco ora io vado vi lascerò il link in descrizione del nome del clan dovete scrivere p w cliccare primo e mettere la password che è goblin tutto piccino unitevi più prima possibile al clan perché il capo potrebbe iniziare una battaglia da un momento all'altro quindi fate una svelta grazie per l'attenzione arrivederci e al prossimo video bella